Grazie Presidente, buonasera Commissario. Guardare al futuro implica prendere atto degli errori che si sono commessi nel passato e per farlo serve l'umiltà di riconoscere che alcune ricette adottate in passato sono state controproducenti e magari hanno portato l'Unione Europea alle soglie di una recessione. Pensiamo ad esempio a quelle che potrebbero essere le conseguenze di un troppo brusco ripristino del patto di stabilità e crescita. Affrontare l'impatto economico della pandemia implica riflettere sul Next Generation che effettivamente ha avuto delle tempistiche troppo lunghe e quindi c'è il timore che lo stimolo all'economia non sia sufficiente, nonostante la montagna di debiti che graverà sulle generazioni future, nonostante le troppe condizionalità ancora presenti nel testo del regolamento. Una sorta di spada di Damocle che avrà delle conseguenze sulla programmazione del bilancio degli Stati nei prossimi anni. Affrontare l'impatto economico della pandemia implica la capacità di ascoltare senza dividere per forza di cose l'Europa tra un esercito di yes-men acritici e invece chi è abituato ad analizzare, ragionare ed eventualmente criticare quegli strumenti che non funzionano. Grazie. Grazie. Grazie.